Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, in primo piano la cronaca e lo facciamo con l'omicidio Cialini di cui parliamo anche in apertura. Ieri c'è stata la convalida dell'arresto di Dante Di Silvestre, accusato dell'omicidio di Paolo Cialini. Abbiamo ascoltato l'avvocato di Silvestre, Gennaro Lettieri, che così ha parlato della strategia difensiva. Come si concilia la vostra ipotesi di omicidio di impeto con le due ferite riscontrate sul corpo di Cialini? Due ferite non sono intanto indicative di una reiterazione e quindi di un omicidio di natura diversa. Noi riteniamo che il colpo sia stato uno al di là delle due ferite e riteniamo soprattutto, circostanza che andrà valutata con particolare attenzione, che l'uso del coltello sia stato tangenziale e non perpendicolare rispetto al corpo del Cialini. Riguardo al primo interrogatorio, noi difensori abbiamo lamentato una carenza piuttosto grave, che il primo interrogatorio non sia stato così come doveva essere fonoregistrato e che esista soltanto un verbale di natura riassuntiva. Nel secondo interrogatorio, quello di Convalida, è tenuto dinanzi al GIP, ripeto, il di Silvestre ha reso una spiegazione che mi sembra sia sostanzialmente conforme allo svolgimento dei fatti. Cosa le ha detto? Conosceva Cialini già da prima? Lo ha escluso, ha escluso di conoscere Cialini, ha ribadito, anche perché la fuga di notizie che si è avuto ha portato a raccontare tutta una serie di notizie false, che lui non ha inseguito il Cialini, ma si stava recando da un cliente e quindi ha preso la stessa marcia del Cialini dopo l'incrocio, la stessa direzione del Cialini, proprio perché si stava recando da un cliente che abbiamo indicato agli inquirenti e che ascolteremo anche noi in sede di indagini difensive. Adesso il GIP dovrà depositarci tutte le carte che ritiene siano a sostegno dell'ordinanza di misura cautelare che ha assunto. Da quello poi desumeremo le eventuali iniziative, la perizia prosegue intanto, l'eventualità di un ricorso al Tribunale del riesame e l'esame di alcuni testimoni, alcuni li abbiamo già individuati, per fare chiarezza su quelli che si ritengono, ma non sono punti oscuri della storia. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici quando ha perso il controllo del suo scooter che è andato a finire contro un palo in via Sisto nella zona nord di Vasto. È morto così per le gravi ferite riportate nell'impatto un vigile del fuoco di 41 anni, Giuseppe Crisci. I soccorritori del 118 subito arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per salvarlo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Crisci prestava servizio nel distaccamento dei vigili del fuoco di Vasto in via Madonna dell'Asilo, dove oggi è ovviamente giornata di lutto. La sicurezza al centro, questo il tema del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo di Città Pescara e a cui hanno preso parte il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza Minniti e il vice capo vicario della Polizia di Stato Luigi Savina. Sala del Consiglio Comunale di Pescara gremita per il convegno organizzato dalla Regione dal titolo la sicurezza al centro, comuni, Stato e Regioni insieme. Fra i relatori il sottosegretario Marco Minniti, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ed il vice capo vicario della Polizia di Stato Luigi Savina, abruzzese DOC. Minniti non ha nascosto l'importanza del problema immigrazione, dicendo che solidarietà e sicurezza sono due facce della stessa medaglia. La lotta alla povertà è uno degli elementi fondamentali per le politiche di sicurezza. C'è un intreccio tra tutte queste questioni. E' importante che in una piazza ci sia una macchina delle forze dell'ordine ma è anche tanto importante che quella piazza sia illuminata. Le forze dell'ordine li manda il Ministero dell'Interno, la piazza è illuminata, ci pensano i sindici in collaborazione con gli enti regionali. Cioè noi dobbiamo costruire questa idea. E' un'idea moderna e a mio avviso non solo è un'idea moderna ma soprattutto è un'idea efficace. Il vice capo della polizia Savina ha parlato del suo Abruzzo come di una regione abitata da gente per bene dove per questo la malavita non è riuscita ad attecchire. Non passa perché questa è una regione fatta di persone per bene, di persone strutturate, di persone che rispettano le regole e perché sono brave e consente le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine, non soltanto la polizia ma anche i carabinieri, anche la guardia di finanza. La squadra dello Stato qui è altamente efficiente. Legge deve essere sinomino di giustizia. E' stata ritrovata questa mattina alle 8 nelle campagne dove la stavano cercando da ore la 22enne che ieri si era allontanata da casa impugnando un coltello e minacciando il suicidio. L'ha vista seduta sotto un albero un agricoltore al lavoro sul suo trattore e ha subito chiamato i soccorritori, la giovane in buone condizioni di salute ma confusa. E' stata accompagnata prima in quest'ora dove c'erano ad attenderla i familiari e dove è stata visitata dal medico del 118. Poi è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini per un approfondimento clinico in presenza anche di una psicologa. Le ricerche ieri si erano concentrate sulle campagne tra Villa Vomano e Miano e attorno alla specola anche con l'aiuto di un elicottero dei Vigili del Fuoco. E ora cambiamo decisamente pagina. Oggi giornata di silenzio elettorale nei quattro comuni dove si deve ancora scegliere il sindaco che amministrerà per i prossimi 5 anni. Secondo turno previsto a Lanciano, Vasto, Sulmona e Roseto. Comuni che TV6 seguirà con collegamenti in diretta all'interno del suo speciale Elezioni in onda da domani sera a partire dalle 22.50. Sono quattro i comuni abruzzesi chiamati domani dalle 7 alle 23 a scegliere il proprio nuovo sindaco nel turno di ballottaggio che chiude la tornata delle amministrative 2016. Elettori al voto a Sulmona, Lanciano, Vasto e Roseto. Tutti comuni sopra i 15.000 abitanti in cui è previsto il doppio turno. A Sulmona la sfide tra Anna Maria Casini, candidata di un raggruppamento civico e Bruno Di Masci alla guida di una coalizione di centrosinistra apparentata in questo secondo turno con Forza Italia. Dal primo turno è uscita in vantaggio Anna Maria Casini che ha ottenuto il 44,75% contro il 26,16% di Bruno Di Masci. A Lanciano chiede agli elettori un secondo mandato il sindaco uscente, candidato del centrosinistra Mario Pupillo in vantaggio al primo turno con il 39,46%. A sfidarlo sarà Enrico D'Amico, candidato di centrodestra attestatosi al 37,86%. In questo secondo turno D'Amico si è apparentato con l'altro candidato del centrodestra Tonia Paolucci che al primo turno aveva ottenuto il 22,66%. Campagna elettorale rovente in Frentania caratterizzata anche da gravi episodi di violenza con l'aggressione a Nico Barone, leader di Casa Pound partito neofascista inserito nella coalizione di centrodestra. A vasto si sfidano Massimo Desiati, centrodestra in vantaggio dopo il primo turno con il 34,27% e Francesco Menna, centrosinistra, che ha ottenuto il 33,30%. Qui nessun apparentamento ma solo l'appoggio dei centristi di Montemurro al candidato della sinistra. Appoggio esterno anche a Roseto, dove Sabatino Di Girolamo ha incassato il placet della coalizione centrista di hashtag Amoroseto di Rosaria Ciancaione. Di Girolamo è in vantaggio dopo il primo turno con il 35,95% rispetto al 34,90% del sindaco uscente Eno Pavone, candidato del centrodestra. Su TV6 appuntamento domani a partire dalle 22,50% per seguire tutte le fasi dello scrutinio, con collegamenti in diretta dai quattro comuni al voto. Il riconfermato sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, guiderà una giunta formata da cinque assessori che ha presentato oggi nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. resta vice sindaco Giorgio Di Clemente, gli altri assessori sono Gabriella Federico, Efrem Martelli, Massimiliano Bronzino ed Enzo Chiacchiaretta, Ezio Chiacchiaretta. Il presidente del Consiglio Comunale è Marco Cacciagrano, vice presidenti Simona Cinosi e Cinzia Silvestri. Una giunta per dare continuità al duro lavoro degli ultimi cinque anni, ha dichiarato il primo cittadino Marinucci, con la sola novità per ora di Ezio Chiacchiaretta. Una giornata di festa per la CGL, ma anche di riflessione sul lavoro, i voucher e la ripresa economica. Di questo si parla nell'appuntamento presso le aree ex cofa del Marina di Pescara. Un momento importante perché anche in un territorio come quello abruzzese, in particolar modo nella città di Pescara, credo che continuare a parlare anche con gli interlocutori del territorio, con tutte le parti sociali, con gli imprenditori e con le associazioni, di un punto importante che può rappresentare lo sviluppo anche di questo territorio, come il turismo, è un dato che non dobbiamo ovviamente sottovalutare. La condizione di questi anni, in particolar modo del 2015, con un boom allarmante dell'utilizzo ad esempio dei voucher, dalla misura di come è ancora importante invece concentrarsi sulla idea di qualità del lavoro e di quale reale prospettiva di non precarietà possa essere data anche nel settore turismo e non solo ai tanti giovani e meno giovani. Questa giornata qui al Marina di Pescara c'è anche la possibilità di firmare per i tre referendum abrogativi sul lavoro? Soprattutto è importante perché questi tre referendum sono a supporto della Carta Universale dei Diritti, quindi una proposta di legge con cui rimettiamo al centro il lavoro e la qualità del lavoro e dove crediamo che per i cambiamenti che sono intervenuti nel mondo del lavoro negli ultimi decenni c'è bisogno di ricostruire un reticolato di tutele di diritti universali che valgano innanzitutto per le persone, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro che queste persone hanno. Il Comune di Teramo ha pubblicato il bando per la vendita degli immobili comunali tra i beni e alcuni appartamenti nuovi in centro storico. Vediamo. Il Comune di Teramo cerca di fare cassa e mette in vendita degli immobili tra cui anche degli appartamenti in centro storico? Sì, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio dell'ente oggi viene pubblicato un bando in cui appunto sono messi in vendita otto lotti fra i quali un'area edificabile in via Lebovio, la scuola di via Antonelli, alcuni appartamenti e locali in centro storico, dei locali commerciali a Colleparco e il tutto per una montare di un milione e duecentomila euro qualcosa. Lì le offerte scadono il 20 luglio alle ore 12, il 21 poi invece verranno aperte le buste. Quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati all'acquisto di questi beni a presentare le domande con le modalità che sono indicate nel bando pubblicato sul sito entro il 20 luglio alle ore 12. È operativo da circa dieci giorni il commissario prefettizio del comune di Tortoreto, Francesco Tarricone, nominato dall'allora prefetto di Taramo, Walter Crudo, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ovviamente la speranza è che la gestione commissariale, che è sempre un momento straordinario, un momento traumatico anche se vogliamo, perché è giusto, lo ripeto sempre, in tutte le circostanze che le comunità siano amministrate da persone del luogo elette democraticamente. Purtuttavia quando accadono avvenimenti come quello che è accaduto qui a Tortoreto con lo scioglimento del Consiglio, a torto collo c'è la gestione commissariale e se il commissario nell'anno, perché questo è il periodo che mi toccherà gestire, può proseguire l'opera dell'amministrazione e perché no apportando anche correttivi e miglioramenti sempre nell'interesse della comunità benvengano. Dal punto invece di vista della stagione ho da subito avallato, perché ho condiviso evidentemente il calendario degli eventi della stagione per cui ho adottato la delibera dopo e spero che i mesi soprattutto di luglio e di agosto siano vissuti alla grande con avvenimenti che possono portare movimento, gioia, contentezza di vivere l'estate, però anche contemperando, e qui ci tengo a dirlo, il momento di riposo meritato che soprattutto i villeggianti, quelli che scelgono Tortoreto come luogo per fare le proprie vacanze, debbono anche essi vivere. Crescono i nuovi poveri nel Pescarese, sono sempre più le persone in difficoltà che si rivolgono alla Caritas Diocesana, in estate problemi anche per gli anziani che restano da soli. Don Marco Pagnello si va verso l'estate, i problemi a Pescara e anche in provincia aumentano per quanto riguarda i senza tetto, i poveri, le persone in difficoltà. La Caritas continua in questo lavoro quotidiano davvero enorme, situazione comunque difficile. La Caritas sicuramente non va in ferie, così come non vanno in ferie tutte le realtà associative, caritative della città, della diocesi, perché proprio in estate abbiamo un aumento di povertà, perché da una parte abbiamo i rumeni che arrivano sul territorio più massicciamente, quindi li vediamo anche in questi giorni in giro per la nostra città, rovistare nei cassonetti per abbigliamento e ferro. Abbiamo il problema della solitudine, che in estate si fa sentire molto di più, perché mentre tutti vanno in ferie, tanti anziani rimangono da soli, anche tanti badanti e badante sono sul territorio, quindi aumentano i numeri, ma aumenta anche la diversità del problema, del fenomeno. Aumentano anche però, possiamo dire, un po' i volontari che vi danno una mano, insomma vi date da fare, grazie anche a tanta solidarietà. Sicuramente, sia solidarietà di tante persone che concretamente vengono ogni giorno a dare una mano, ma anche solidarietà rispetto a tante aziende che ogni giorno ci permettono di dare un pasto caldo, partendo dal pane, alla carne, alle verdure, che possiamo poi servire a chi ha bisogno. È riaperta da questa mattina la piscina comunale dell'Acquaviva di Teramo, piscina che sarà fruibile dalle 9 del mattino fino a sera. Ha riaperto questa mattina la piscina comunale dell'Acquaviva qui a Teramo, dopo l'apertura, la riapertura, tanto attesa della piscina coperta, finalmente anche quella scoperta. Per dare un segnale forte alla città, perché è a sostegno della famiglia, di tutte quelle persone che non possono recarsi al mare, perché diventa un punto d'appoggio e una soluzione per tutti i genitori che alla chiusura della scuola si trovano in difficoltà, perché magari non hanno un punto di riferimento per i loro bambini. Qui si farà campus, qui ci sarà la possibilità di usufruire dei passi, di sopprenotazioni, ci sarà la possibilità di essere seguiti dai bagnini, quindi è un ambiente sicuro e protetto. Importante è sottolineare che i prezzi non sono stati aumentati e le tante agevolazioni, per esempio, per le famiglie numerose. Sì, questa è una cosa importante che il gestore della struttura non ha mantenuto e quindi credo che sia opportuno che i cittadini riscoprano questo spazio e che poi si presta sia a momenti di divertimento, ma che è una struttura che può essere utilizzata anche per gare sportive. Apertura grazie all'associazione Asi Teramo. Abbiamo allestito questo compresso sportivo che è una piscina di 50 metri dove si possono fare anche attività agonistiche. Infatti lunedì sera abbiamo una partita di pallannoto contro i master di Pescara. L'ingresso è unico e ci si può stare tutto il giorno col costo di 5 euro. Ai bambini sotto a tre anni è gratis. Speriamo che il tempo ci assista e anche quest'anno possiamo riconvermare una buona riuscita di questa magnifica struttura. Oggi a Laurum si è tenuto un convegno a cuora dell'Assi Pan Conf Commercio per parlare del pane fra tradizione e modernità. Si parla di pane oggi a Pescara in questo convegno dell'Aurum. Pane tra tradizione e modernità ma il pane, il caso di dire, d'Intino non passa mai di moda? Beh, ultimamente sta passando un po' di moda. Questo è uno dei problemi per quali abbiamo dovuto fare anche questo convegno perché il pane considerato il re della tavola ultimamente sta diventando il povero della tavola e per questo motivo vogliamo cercare di risvegliare il pane che sta seguendo anche la modernità cioè nel senso i pani stanno cambiando si sta andando verso i pani che hanno un contenuto di carboidrati più bassi nel caso mio specifico stiamo facendo anche degli studi per quanto riguarda un pane glicemico che quindi possa andare incontro alle esigenze di chi soffre di diabete stiamo riscoprendo dei pani con un maggiore contenuto di fibra però la realtà è che il consumo di pane negli ultimi anni è sceso del 55%. Ogni regione ha un pane particolare il pane abruzzese Dintino per esempio da cosa si differenzia rispetto agli altri pani? Diciamo che il pane della tradizione abruzzese è un pane che doveva seguire le esigenze dei contadini del greggio, della pelle quindi è un pane di formati grandi di formati grossi dove c'era contenuto pane di lievito pasta di riporto lievito madre quindi dava la possibilità di rimanere di reggere una settimana dieci giorni perché doveva essere portato dietro veniva fatto una volta a settimana sono diciamo queste dimensioni queste dimensioni oggi giorno non si sposano più con l'esigenza di vita che abbiamo e con la vita frenetica però la caratteristica nostra è proprio questo è un pane diciamo di dimensione un pane cosiddetto pane cafone nel caso invece specifico di Pescara era ed è ancora il cuscinetto che è un prodotto particolare che si sposava molto con il pesce Sabato 25 giugno notte romantica nei borghi più belli d'Italia doppio appuntamento a Civitella e Castelli per festeggiare l'arrivo del solstizio d'estate tra mostre, concerti, spettacoli, pirotecnici cene, tematiche, rappresentazioni di danza e teatro il programma è ricco e concentrato in qualche ora diciamo partirà dalle ore 18 quindi questa famosa notte romantica a livello nazionale che abbiamo accolto a Civitella come in tutti gli altri borghi più belli d'Italia partirà appunto dalle 18 con una visita guidata del bellissimo borgo di Civitella per poi alle 19.15 sempre all'interno del borgo diciamo in un palcoscenico naturale sempre del borgo ci sarà questa lettura scenica di Vanessa Dezzi tratta da un romanzo di Gabriel Garcia Marquez per poi dopo passare alle cene a tema organizzate dai ristoranti del borgo in Fortezza ci sarà alle 20.20 il gruppo Sitaranta che faranno dei balli molto caratteristici all'interno sempre della prima piazza la piazza del Cavaliere della Fortezza per poi dopo di che passare alla Compagnia dei Folli i primi passi sui trampoli li abbiamo fatti a Civitella nella bellissima Fortezza quindi ritornare a Civitella in questa occasione della notte romantica per la Compagnia dei Folli è un'emozione doppia perché ritorniamo nel luogo dove siamo cresciuti e dove abbiamo spiccato il volo quindi sarà emozionante per noi e spero anche per il pubblico che verrà a vederci noi dell'associazione La Piazzetta siamo davvero lieti di far parte di questo progetto e quindi ringraziamo il comune di Civitella del Tronto ma soprattutto la fondazione Tercas questo per noi è solo l'inizio di un progetto che vorremmo realizzare in futuro a Civitella del Tronto e cioè un festival medievale che durerà più giorni Apriamo la pagina dello Sport e sabato dunque il mercato registra una piccola frenata in attesa poi dell'inizio della nuova settimana e intanto in casa Pescara si attende l'epilogo della telenovela legata all'attaccante Gianluca Lapadula il Napoli resta in pole position ma nelle ultime ore è spuntata la pista Empoli via Juventus la difesa è quasi al completo ma sempre a proposito di difesa è sempre nelle ultime ore si parla di un clamoroso ritorno a Pescara quello del portiere Morgan De Sanctis che è originario di Guardia Grele e ha iniziato la sua carriera proprio nel Pescara intanto vediamo il servizio La sempre più probabile cessione di Gianluca Lapadula e Gianluca Caprari al Napoli rappresenterà un cardine del mercato del Pescara da un lato perché la società potrà monetizzare con una cifra sui 12 milioni di euro poi perché sarà più chiaro quello che sarà lo scenario del mercato con Caprari destinato a restare in biancazzurro per un'altra stagione in prestito e la società che potrà concentrarsi sulla sostituzione del capo cannoniere della Serie B La trattativa con Napoli è sostanzialmente fatta ma resta sempre soggetta alla reale volontà del calciatore e su quella fanno leva le altre pretendenti come Genoa e Sassuolo che possono offrire a Lapadula un ruolo da assoluto protagonista non demorde neanche la Juventus che secondo le ultime voci starebbe ancora lavorando per prendere Lapadula e girarlo in prestito all'Empoli dove il neotecnico Martuscello lo accoglierebbe a braccia aperte la destinazione Napoli ottimale per le casse del Pescara fa riflettere Lapadula sul fatto di avere davanti un mostro sacro come Iguain senza dimenticare tutto il resto del parco attaccante a disposizione di Sarri la necessità a 26 anni è debuttare in A giocare e segnare con continuità ad inizio della prossima settimana il bomber potrebbe porre fine a qualsiasi riflessione rompere gli indugi e mettere nero su bianco a quel punto il presidente Sebastiani darà la caccia al nuovo centravanti resta molto calda l'ipotesi Marcello Trotta che arriverebbe in prestito dal Sassuolo in una squadra pronta a dargli massima fiducia al DS Inpectore Leone non dispiacerebbe riavere alla sua corte Gaetano Monachello dell'Atalanta già valorizzato due anni fa a Lanciano detto dell'attacco il Pescara cercherà un portiere da affiancare a Fiorillo riscattato dalla Juventus e andrà assortito un centrocampo che ha perso quasi tutte le sue pedine essenziali tranne Meuschai la priorità è riavere in rival adriatico Berre e Mandragora sempre nell'ottica di tenere il più possibile compatto l'organico della promozione nel caso bisognerà sedersi con Udinese e Juventus per trovare un'intesa con la conferma di Crescenzi è sostanzialmente a posto la difesa che potrebbe essere puntellata con l'innesto del terzino Biraghi di proprietà dell'Inter da valutare Andrea Coda per la sua esperienza in A farebbe molto comodo a Massimo Oddo ma resta da capire se sia un giocatore su cui poter contare alla luce dei tanti infortuni riportati in questa parte di carriera intanto lo storico gruppo dei Pescara Rangers festeggia i 40 anni con una due giorni questa sera la seconda serata con la presenza di tante vecchie glorie biancazzurre è iniziata ieri pomeriggio si concluderà questa sera la due giorni di festa organizzata nell'area ex Cofa del porto turistico per celebrare i 40 anni dei Pescara Rangers uno dei club storici della Curva Nord un traguardo importante per il cuore del tifo pescarese club nato nel 1976 e da allora sempre presente allo stadio Adriatico in tutte le trasferte che hanno accompagnato il Delfino sin dalla sua prima storica promozione in Serie A tra birra arrosticini e tanta buona musica diversi protagonisti dell'ultima promozione non hanno voluto mancare l'appuntamento mescolati ieri sera con i supporters Biancazzurri c'erano anche Vincenzo Fiorillo Vitturini Ventola Aldegani oltre al presidente Daniele Sebastiani che nella circostanza ha promesso un trattamento di riguardo ai fedelissimi del Pescara in vista della prossima campagna abbonamenti in partenza ai primi di luglio poi tutti sul palco per la consegna di targhe e riconoscimenti oltre ad una bella pergamena realizzata per l'evento e l'impegno a portare sempre più in alto i colori biancazzurri questa sera è previsto il gran finale con la sfilata sul palco delle vecchie glorie del Pescara e collegamenti video e audio con grandi personaggi di un recente passato che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio pescarese che quest'anno compie 80 anni di vita e ora facciamo il punto sulle due abruzzesi di Lega Pro Teramo e Virtus Lanciano Teramo e Virtus Lanciano le prossime due rappresentanti abruzzesi di Lega Pro si trovano a due stadi diversi della preparazione della prossima stagione sicuramente più avanti è il Teramo che ha avuto modo di fare in tempi congrui tutti i vari passaggi per avvicinarsi alla nuova stagione prima il nuovo direttore sportivo nella persona di Fabio Lupo a fine campionato l'epilogo della gestione tecnica di Vincenzo Vivarini eventualità di fronte alla quale la società si è fatta trovare pronta scegliendo in pochi giorni il sostituto Lamberto Zauri in questi giorni Lupo è al lavoro a ritmi serrati per l'allestimento della rosa risolto il contratto con Diego Cenciarelli il prossimo della vecchia guardia a salutare sarà Stefano Amadio non è ancora detta l'ultima per il difensore Stefano Scipioni che non è certo l'asciteramo Lupo farà il possibile per trattenerlo intento che sembra essere andato a buon fine per il capitano Ivan Speranza che resterà al pari dei vari Petrella Di Paolo Antonio Caidi e Dorazio altra incognita quella legata al portiere Tonti sul fronte dell'entrata è fatta per la mezzala Carlo Ilari ex Sant'Arcangelo ma di proprietà della Juventus a buon punto la trattativa per l'attaccante Antonio Croce ex Celano e Cologna Paese intanto è ufficiale la sede del ritiro sarà Ovindoli nell'Aquilano dal 13 al 28 luglio sul fronte societario dopo l'addio di Giuseppe Daniello il CDA si riduce a due componenti presidente Luciano Campitelli vicepresidente Ercole Cimini che assume anche la carica di amministratore delegato situazione invece tutta da definire in casa Virtus Lanciano la retrocessione ha lasciato scorie e la famiglia Maio è in una fase di riflessione per capire se ma soprattutto come ripartire la rosa al momento è ridotta ai minimi termini si potrebbe ripartire dai veterani a Mente Bastola e i portieri Casadei Aridità andrà sicuramente via il gioiellino Federico Di Francesco che farà fare cassa con la sua gestione alla Juventus che poi lo girerà al Bologna non c'è ancora l'ufficialità ma si è conclusa l'era Luca Leone e la casella del DS va riempita sono filtrati i nomi come Ivantisci e Alessandro Battisti ma è in ascesa l'ipotesi Matteo Materazzi fratello dell'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi da consulente potrebbe affiancare Claude Di Meno di Bucchianico che ricoprirebbe la carica di DS poi la scelta dell'allenatore che prenderà il posto di primo Maragliulo il quale quasi certamente non resterà in frentagna come abbiamo detto nel servizio è Carlo Ilari questa è la pronuncia più corretta il primo colpo di mercato del Teramo oggi è arrivata la firma per lui il contratto biennale ascoltiamo le prime dichiarazioni del neo centrocampista del Teramo che lo scorso anno ha ben figurato nel Sant'Arcangelo queste le sue prime parole ho scelto Teramo perché insomma mi hanno voluto con convinzione e sono convinto che qui si possa fare un gran bel campionato ci sono tutti i presupposti per fare bene quindi penso che sia la scelta giusta sei un giocatore che ha capacità di inserimento in zona gol sì mi piace pur essendo un centrocampista ho fatto anche il trequartista e quindi mi piace inserirmi e insomma fare gol ma soprattutto per una cosa di squadra perché comunque mi piace da centrocampista che ci sia un supporto agli attaccanti praticamente come ti descriveresti ai tuoi nuovi tifosi? praticamente sono una mezzala una mezzala e posso anche ricoprire il ruolo di mediano all'occorrenza però insomma il mio ruolo è quello di mezzala e penso che in quello possa rendere al meglio non avevo mai giocato a Teramo mi ha colpito appunto questo ambiente caldo questa passione che c'è nei confronti della squadra e sicuramente questa è una cosa bella e positiva perché penso sia il bello del calcio che i tifosi siano legati alla squadra era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà alle ore 23 con la terza e ultima edizione giornaliera grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione